eccoci qua direi che anche per questa settimana dei nostri QBG block in calcestruzzo ne abbiamo gettati un bel po' adesso li facciamo maturare ormai questo prodotto è ben noto ai più per la sua duttilità e flessibilità per tutti quanti gli utilizzi in quanto li possiamo muovere spostare e creare dei muri divisori e muri di contenimento ovunque noi vogliamo in quanto non è richiesto un permesso edilizio come vedete laggiù a stock ne abbiamo già più di 200 inoltre c'è la possibilità di averli con l'effetto faccia vista quindi per qualsiasi vostra esigenza non esitate a contattare Transghaia